Altre cose che stai guardando, opportunità ad ora? Guarda, opportunità, diciamo che sicuramente l'attenzione tanta è emessa sul settore bancario. Un'altra bella, 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 bella opportunità che secondo me non è possibile non cogliere in questo momento è collegata e relativa all'intelligenza artificiale. Oramai l'abbiamo capito, l'intelligenza artificiale sarà una rivoluzione pari a quello che è stato internet è quello che è stato il computer, è quello che è stato il telefono, una cosa pazzesca e secondo me nello specifico ti sto facendo vedere il grafico di Microsoft perché qui ha comunicato di aver acquistato di fatto ChatGPT OpenAI e da lì il titolo è praticamente solo salito. Io ho preparato una schermata dal sito visualcapitalist.com Bellissimo, bellissimo il sito. E volevo farti vedere perché secondo me Microsoft è un'azienda che da qui ai prossimi dieci anni bisogna avere in portafoglio e nello specifico andando sul concreto è un'azienda estremamente diversificata che tu pensa come fetta di fatturato derivante dal motore di ricerca motore di ricerca al quale adesso è già stata inserita l'intelligenza artificiale e incassa solamente il 6% del suo fatturato deriva da Bing. A differenza di Alphabet che tutti conosciamo con Google dove come vedi il 70% del fatturato deriva dalla voce pubblicità ed è un problema perché Alphabet, Google, nello specifico, è talmente grosso e talmente potente in questo momento dal punto di vista delle ricerche online che ci mette secondo me davvero un attimo a perdere anche un 10% di fetta del mercato delle ricerche nei confronti appunto di Microsoft e è molto più fragile perché il 70% forse anche qualcosa di più deriva appunto da un business solamente. guarda invece Microsoft come è diversificata dove tra l'altro una bella fetta circa il 26% deriva da Microsoft Azure che sono i suoi server, il cloud che solamente cinque anni fa non esisteva. quindi siamo di fronte ad un colosso incredibile che un pochettino sottotraccia negli ultimi anni è riuscito però a diversificare tantissimo rispetto appunto a Google e in questo momento ha le carte in regola per riuscire ad andare ad attaccare questo mercato il mercato dell'advertising che è un mercato da più di 100 miliardi di dollari l'anno. Ma come intelligenza artificiale oltre a Microsoft cosa stai guardando? Ma diciamo che l'ho studiata tanto l'intelligenza artificiale negli ultimi mesi pensa che tu lo sai bene uno dei primi esperimenti che abbiamo fatto in ufficio da noi cercando di creare un tool che doppiasse i video completamente in automatico l'ho fatto appunto con una clip dove siamo io e te che parliamo ed è venuta incredibilmente bene. Cosa ho scoperto? Ti riassumo in poche parole mesi e mesi di ricerca sull'intelligenza artificiale che tu dove vai vai ma sempre da Microsoft devi andare cioè la tecnologia, l'intelligenza, la potenza di calcolo tutto quello che ti serve per fare progetti in campo intelligenza artificiale tu di fatto ad un certo punto capisci che devi passare da uno di questi big e il più avanti di tutti è Microsoft. Ti faccio un esempio se io in questo momento volessi andare a campionare la mia voce per fare in modo che i miei video che vado a doppiare in inglese avessero perfettamente la mia voce è un servizio che ti dà Microsoft con oggi 5000 dollari ti campionano perfettamente la tua voce capito? Tutti gli esperimenti che io sto facendo in campo intelligenza artificiale con i miei programmatori alla fine si va a prendere un servizio che è Azure quindi Microsoft ti fornisce già fatto incredibile io ogni volta che mi scontro con questa roba dico ho fatto benissimo a comprare le azioni Microsoft perché secondo me tra dieci anni varranno il doppio di quello che valgono adesso chiaro? Molto 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 figo grazie a tutti grazie a tutti